Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Pediatria non si tocca, è il messaggio arrivato dalle mamme e dai papà di Pesaro nella protesta organizzata in piazzale Lazzarini per dire no all'ipotesi di accorpamento dei reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia al primo piano della palazzina F dell'ospedale San Salvatore. Ogni volta che manifestiamo il nostro disappunto a riguardo ci tranquillizzano e poi dopo qualche giorno viene fuori qualche altra voce quindi non è più il trasferimento ma l'accorpamento dopo non è più l'accorpamento ma è il trasferimento su un altro piano e a questo punto sembra un po' un gioco con questi reparti. Io ho partorito due bimbe sotto Covid, la prima a Pesaro e devo dire che è stata un'eccellenza mi sono trovata benissimo, il reparto è meraviglioso. La seconda bimba l'ho partorita a Fano, purtroppo abbiamo avuto delle problematiche maggiori perché è molto congestionato ed era tutto convogliato sotto Covid a Fano quindi io purtroppo mi sono trovata comunque bene ma ho dovuto partorire in una sala d'aspetto perché aspettavano un tampone Covid e non sono neanche arrivata in sala a parto. Nonostante tutta la buona volontà delle ostetiche di tutte le ragazze che sono state bravissime devo dire che per una mamma avere un'assistenza a 24 ore su 24 e avere una tranquillità di un reparto che funziona è veramente importante. Comunque anche noi padri siamo interessati alla cosa, questo riguarda obiettivamente il reparto materno e il reparto materno come sapete sono dei bambini che sono nati qui a Pesaro ringraziando Dio ma perché? Perché hanno riaperto Pesaro adesso, la vergogna non è questa, la vergogna è che la vogliono chiudere o la vogliono accorpare. Prima ci avevano detto che spostavano tutto a Fano e poi hanno ritrattato, poi hanno detto che accorporavano i reparti a noi questa cosa non ci sta bene perché Pesaro è una città grande, abbraccia un bacino di quasi 100.000 persone tra mamme, future mamme, mamme che comunque hanno problemi, bambini che possono avere problemi. Il reparto era già a posto così, nel senso che è stato messo a posto nel 2015, è un reparto che funziona perché adesso a corporarlo insieme ad altri reparti con il rischio che si arriva a qualche bambino con qualche infezione ci sono mamme che devono partorire, voglio dire non ha proprio senso. Alla protesta organizzata dal comitato mamme hanno voluto partecipare anche il segretario comunale PD Giampiero Bellucci e il consigliere regionale Andrea Biancani. Sì, devo dire che ho presentato l'ennesima interrogazione, in un'interrogazione in questo caso urgente che verrà discussa la prossima settimana, martedì, dove chiedo finalmente di avere una data rispetto alla presentazione del piano per il progetto preliminare ancora siamo in questa fase, cioè ancora non c'è nulla, era stato annunciato più volte l'accordo di programma sottoscritto da tutti gli enti, cioè da Comune, Regione e Sanità prevedeva che il progetto preliminare, il bando doveva uscire entro il 31 dicembre del 2022 oggi siamo arrivati a settembre del 2023, ancora non si sa nulla. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini oltre a confermare che non ci sarà alcun trasferimento di alcuni reparti come ostetricia, ginecologia e pediatria dall'ospedale di Pesaro a quello di Fano criticando il PD per aver alimentato questa polemica ha poi affermato che gli sforzi della regione sono mirati alla realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia che conterrà tutte le specialità che sono ad ora presenti e per questo è necessario creare le migliori condizioni e allocazioni affinché questo avvenga nel più breve tempo possibile nel piano sanitario appena approvato, continua Saltamartini è chiaramente previsto il mantenimento dei reparti a Pesaro come tutti i cittadini possono verificare ha concluso l'assessore